E' uscito un lavoro davvero molto interessante per tutti gli amanti della canzone d'autore, in particolare della canzone d'autore francese e del suo capostipite, cioè George Brassin. Il libro più due cd ad opera di Beppe Chierici si chiama La cattiva erba e lo presentiamo con l'autore che è con noi. Buongiorno Beppe Chierici. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beppe Chierici, un artista dalla vita avventurosa, passato dalla musica al cinema, al teatro, giovanissimo in Francia, poi in Africa, poi ancora in Francia a tradurre le canzoni di Brassens e incontrare direttamente Brassens da Garazzo. Ci racconti com'è nato il suo incontro con la musica di Brassens e poi con lo stesso Brassens? L'incontro con Brassens è nato praticamente, essendo piemontese, avendo qualche nozione di francese, ho scoperto così per caso le sue canzoni, avevo vent'anni e mi appassionai immediatamente a questo immenso poeta perché soprattutto, per la senso non ho scritto canzoni, ma ha scritto letteratura in musica, per cui di lì nacque questa passione. Nel frattempo poi partì in Africa, mi portavi dietro tutti i dischi, compresi anche i 78 giri che c'erano su Brassens e lì cominciai per ascoltarlo e poi piano piano mi venne questa voglia di far conoscere Brassens ai miei amici e quindi farlo conoscere un pochino di più agli italiani. Per cui cominciai così in Africa, fra la sera, siccome le sere in foresta non è che ci fosse né televisione né radio né niente, mi sono messo lì e cominciato piano piano a tradurre, poi sono rientrato in Italia, feci leggere le mie traduzioni così a degli amici, capitano in mano di Roberto Danè che era il direttore artistico della Bell Disca che era la stessa casa discografica dove incideva Fabrizio De Andrè, per cui diciamo alla Bell Disca è lì che l'ho incontrato e mi disse a massa sarebbe interessante registrarle, hai fatto un lavoro interessante, quelle cose che si dicono, però prima di registrare questo disco voglio essere sicuro che Brassens ne sia contento e soprattutto prove le mie traduzioni, per cui partì, andai in Francia e riuscì ad avere un appuntamento con lui, mi portai queste traduzioni, poi tornai in Italia e un mese dopo ricevete questa lettera di Brassens che mi complimentava, infatti sul libro c'era il manoscritto e quindi mi decisi poi a registrarle, naturalmente appena il disco fu pronto questo 33 giri, poi glielo portai, ne parlammo e lì nacque poi questa amicizia che ha onorato tutta la mia vita e quindi da allora divenne uno degli amici di Brassens, per cui cominciai a tradurne altre, feci un secondo 33 giri, poi spettacoli in giro per l'Italia, parecchi spettacoli su di lui, naturalmente continuavo ad andare avanti e indietro fra Roma e Parigi, a quei tempi abitavo a Roma, poi successe questa cosa terribile, avevo già in calsetto molte canzoni che volevo registrare e poi quando Brassens morì nell'81 fu per me un colpo così grave che decisi di non più registrare, di non più farmi vivo, di non più assolutamente partecipare anche un pochino a questa veglia sul morto che mi irritava molto, di colpo tutti traducevano Brassens, tutti si vivivano, tutti lo commemoravano, tutti diventavano una cosa un po' così e nel 2008 un piccolissimo produttore di Amelia che era amico mio mi convinse a rimettere un po' il piede alla staffa, per cui registrai questo CD che si chiamava Suppliche e celebrazioni e lì mi venne poi l'idea di mettere tutte le traduzioni che avevo fatto e che non avevo mai cantato su un libro e fare appunto il libro che lei ha, che è la cattiva erba. Ecco un pochino questa è la storia. Il libro in cui troviamo 82 di queste traduzioni in italiano con il testo originale a fronte e due CD allegati in cui troviamo 40 di queste canzoni cantate in italiano da lei. Una delle cose più difficili probabilmente che ci possa essere nella traduzione di canzoni così perfette come quelle di Brassens che sono perfette da tutti i punti di vista, metrica, musica, rimi, ritmi è cercare di rendere la stessa perfezione usando un'altra lingua come quella italiana. E infatti io in questo forse l'unico vanto che ho, perché non per niente ho voluto far intervenire come una voce della voce di Brassens su alcune canzoni, questo per far vedere che metrica, musica e ritmo erano perfettamente uguali, per cui poteva entrare a qualunque momento su un nostro arrangiamento nel quale avevamo appunto rispettato appunto il tempo, la metrica e tutto, quindi è la cosa di cui forse sono più orgogliosi di essere riuscito proprio a dare questi elementi base che sono appunto la metrica, il ritmo, la scansione e la rima, per cui come se avete letto la prefazione so benissimo che ho infangato la treccani a volte per diciamo facendo così, togliendo le finali di certe parole, ma insomma tutto questo proprio perché volevo assolutamente rimanere rigoroso e poi anche questo ossessione della fedeltà, insomma, molti amici molto bravi che io stimo molto, hanno trattato Brassens ma gli hanno fatto dire cose che lui non aveva mai pensato, non aveva mai scritto, forse per un fatto di metrica, non lo so, invece quelle dove non sono riuscito a mantenere questo rigore non le ho tradotte, ne ho provato, ho molte bozze nel cassetto ancora, ne ho di che ancora fare almeno due cd, questi di cui sono molto contento, ma insomma, piuttosto ho preferito a non tradurre, non buttarmi in questa avventura, proprio per non tradirne proprio anche, non dico lo spirito, ma non tradirne proprio il suo rigore, la sua perfezione, insomma, le sue rime, le sue strofe erano assolutamente perfette e quindi ho cercato di ritrovare un pochino di questa perfezione. In qualcuna di queste sue traduzioni però fa anche la sua comparsa, l'attualità. Ma è evidente perché, sapete Brassens è morto nell'81, le canzoni più importanti, più famose le ha scritte negli anni 60-70, quindi dove lui sfiorava l'attualità, era un'attualità di quegli anni, ma non era più un'attualità nostra, per cui inutile parlare di Franco in Spagna, quando Franco ormai è caduto, per cui per esempio la canzone il re l'ho aggiornata ai giorni nostri con i personaggi e i reali che esistono ancora al mondo, che sono il re del Marocco, il re della Giordania, che sono questi dittatori, questi tipi, questi ehiatollà. Ho voluto, diciamo così, attualizzare però un'idea base che era quella di un anarchio che non sopporta l'idea che ci sia qualcuno al mondo che voglia comandare sugli altri, insomma, però non potevo continuare a parlare di Franco perché è anche morto, oppure parlare di personaggi che sono o decaduti o deceduti, per cui è stata una necessità mia di attualizzare la cosa, ma per il resto invece le canzoni d'amore ho mantenuto perché sono alla perfezione assoluta come canzoni d'amore. Per esempio c'è una cosa che ho messo nel vecchio me me, che è un'attualità vera, che ormai sono quasi in guerra, Allah e Gesù, quando lui nella versione sua dice qui stanno litigando fra destra e sinistra, ma era un fatto importante a quei tempi, ma insomma non è più d'attualità oggigiorno dove c'è. Quindi è un po' che ecco, questa è l'unica cosa che ho cambiato, ma la cosa che mi ha confortato è che anche lì ne ho parlato prima con gli eredi di Brassens, che sono Sergio Cazzani, che sono Bruno Gragniè, che sono i suoi parenti, che sono un po' i suoi eredi spirituali, e mi hanno detto ma assolutamente, devi assolutamente attualizzarle perché sennò diventano delle cose che la gente, i giovani non sapono neppure a chi ti riferisci, insomma. Io non so quanti giovani sanno oggigiorno che Franco è stato uno dei peggiori dittatori, l'ultimo grande dittatore che ha avuto l'Europa, ma anche se è un personaggio molto cubo e molto tetro, molti giovani forse per disinformazione, per disattenzione non lo saprebbero, insomma. Ecco, questo è l'unico crimine di l'esa maestà che ho commesso. Un'altra delle grandi doti di Georges Brassens era la grande semplicità delle sue composizioni dal punto di vista musicale e la grande leggerezza di queste canzoni anche quando poi si trattava invece di toccare temi piuttosto seri e pesanti. Ma infatti devo dire che il grande merito, lo straordinario merito di Brassens è appunto che sotto la frivolezza di una canzone ha portato la poesia per le strade, nelle piazze, nelle case, in posti dove probabilmente non era mai entrato un libro prima di allora, a parte l'enco del telefono, quindi ha dato la canzone in titolo di nobiltà e diciamo mentre leggere un poema è una scelta precisa che uno fa, la canzone, soprattutto Brassens ha questo grande merito che è entrato senza bussare nel quotidiano della gente, vorrei dire che Brassens si è imposta per effrazione, proprio perché per questa facilità che aveva trovato nelle sue melodie, ma facilità dovuta anche e soprattutto secondo me alla rima, perché la rima è il vero escamotage per memorizzare immediatamente una canzone, quando non c'è rima è molto difficile memorizzare una canzone, mentre se una canzone ha queste rime così perfette, così facili, con un linguaggio nel quale va anche il pubblico più modesto e più umile si riconosce, ed è questa la grandezza di Brassens, di aver adoperato un linguaggio che era chiaro a tutti e uno si riconosceva in esso, quindi è lì dove proprio, e lo considero che il genio di Brassens è proprio stato questo, di portare la poesia, di aver fatto appunto, l'ho detto prima, le sue non sono canzoni, ma le sue letterature in forma musicale, che poi sia molto semplice anche, ci sono delle cose quasi infantili come l'occhetta, come quelle canzoncine, che sembrano canzoncine in effetti sono tipo, non so, raggiungerò la bella eccetera, che sembrano canzoni molto facili, in effetti sono canzoni dove ci sono delle rime interne che fanno paura, insomma, e bisogna veramente alzarsi da mattino presto per ritrovarle e poterle ricostruire. Tutto questo da autodidatta, perché Brassens era un poeta autodidatta? Brassens era un autodidatta che si è fatto anche espellere dal liceo, quindi, ma era, sapete, aveva una conoscenza immensa, Brassens sapeva a memoria, dico bene, a me non è esatto, migliaia di poemi, Brassens conosceva a memoria tutto Vittor Hugo, tutte le poesie di Vittor Hugo conosceva a memoria tutte le poesie di Rimbaud, di Verlaine, di Baudelaire e di Paul Fort, poi non parliamone, quindi era proprio un uomo che si nutriva di poesia e poi riusciva ad avere questa sua immensa personalità unica nel fare delle canzoni che, come ripeto, non sono canzoni, ma è veramente, le letterature in forma musicale, ma è veramente, nelle quali però tutti si riconoscono, il pubblico riconosce il proprio linguaggio, riconosce le cose che capisce, eccetera, e questa è la sua grandezza sicuramente. Diciamo che è il più grande poeta, il più grande poeta popolare del suo secolo in assoluto, insomma. Da questo libro è nato anche uno spettacolo che racconta la musica di George Brassens, verrà presentato in anteprima il 16 e poi farà il giro per tutta l'Italia. Il giorno 16 a Cuneo farò appunto, diciamo un pochino una prima di questo mio recital che intendo poi portare in giro per l'Italia, che si chiamerà appunto Beppe Chierici canta Brassens e lo racconta. Le informazioni sullo spettacolo di Beppe Chierici, presentazioni in anteprima del lavoro La Cattiva Erba, le trovate sul nostro sito radiogold.it. Ora l'informazione continua su Radio Gold News.